ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video flash ragazzi flash veramente velocissimo dice lo mi manca della raccolta della Champions League 2020 2021 perché sono delle figurine mi ha inviato Roberto che ringrazio ancora che è un iscritto non in uno scambio me l'ha inviato direttamente lui di sua iniziativa ci tengo a fare questo video soltanto con queste figurine anche se sono poche perché sono veramente delle belle figurine ringrazio ancora Roberto che me l'ha inviato allora la prima figurina dello Shakhtar quindi andiamo alla pagina dello Shakhtar questa volta non faremo in ordine numerico ma andremo direttamente alle pagine andiamo a vedere lo Shakhtar che numero è Shakhtar eccolo qui sta pagina 48 ecco 48 non trovo il numero di pagina ragazzi numero 48 e ci siamo abbiamo la Shakhtar numero 3 di Piantov eccola qua nel nostro album poi abbiamo Pjanic del Barcellona ex giocatore della Roma ma anche della Juventus fino all'anno scorso è stata la Juventus con il numero 12 anche questa mi mancava che va qui in basso che poi Pjanic ragazzi qui sotto c'è scritto il debutto in Champions League ha debuttato in Champions con l'Olympic Lyon nel 24 2 2009 proprio contro il Barcellona ragazzi mi dice l'aveva nel destino il fatto di vestire questa maglia poi l'Atletico Madrid con la giovane promessa Joao Felix eccolo qua col numero 16 ci manca anche lui poi abbiamo Walker del Manchester City Manchester City che pagina è 12-13 12-13 eccolo qua è la numero 4 anche Walker ci manca eccolo qua poi abbiamo del Marsiglia Sanson Marsiglia pagina 36 abbiamo numero 16 eccolo qua ci manca e poi dobbiamo andare andare ai Reising Stars ecco qua che questa è veramente una bella rubrica con tutte le giovani promesse del calcio internazionale abbiamo Vinicius Junior che purtroppo ce l'ho ragazzi quindi è doppione ok però poi abbiamo Ansu Fati con il numero 3 che va qui ringrazio ancora Roberto per queste figurine soprattutto per questa di Fati adesso andiamo ad attaccare molti di voi mi hanno detto ma l'ha attaccata la figurina di Fati quella del Barcellona normale dice ma quella figurina lì è una figurina rara già sparita non si trova più qua alla destra e sinistra ho capito ma chiaro devo attaccare sull'album ma devo finire sto album anche perché poi se non si trova più io l'album non lo completo quindi l'interesse è quello di completare l'album e poi il resto si vedrà ok ragazzi per questo ce lo mi manca è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti grazie